e guida diciamo dei ritmi abbastanza diciamo non come il solito una volta quando si va qui si aveva proprio paura di arrivarci perché c'erano delle file interminabili buongiorno ragazzi oggi nuova prova di autonomia la variante sono le gomme che sono state cambiate sono state rimesse le gomme diciamo quelle estive allora monto del hancock 235 40 r19 quindi tutte le proprie di autonomia fatte nei mesi precedenti erano fatte con gomme invernali e adesso proviamo questa mattina a fare una prova con queste gomme qui allora andiamo come sempre a resettare il nostro computer di bordo e questa mattina siamo diretti a fiume in croazia sono 235 chilometri 2 ore e 51 minuti devo vedere il tragitto questo ragazzi bene partiamo piccola pausa mancano ancora 87 chilometri c'è un posto da qualche parte abbiamo fatto la colazione adesso siamo qui a cozzina guardate ragazzi i prezzi del supercharger si parla di qui naturalmente di fasce orarie a mezzanotte alle 4 siamo a 0 35 centesimi di euro al kilowatt quindi stiamo parlando della metà di quello che spendiamo noi in italia supercharger di cozzina slovenia dopo ci fermiamo fare una bella ricarica siamo al 41 per cento ho consumato abbastanza abbiamo percorso praticamente 177 chilometri con 37 kilowattora abbiamo consumato un bel po perché ho dovuto alzare un po le andature in quanto sono in più ritardo eh sì ragazzi ormai si arriva senza i controlli si passa il confine tra slovenia e croazia appena entrati ci dirigiamo subito al luogo dell'appuntamento come hancock estive e guida diciamo da ritmi abbastanza diciamo non come solito perché appunto devo essere lì alle 10 e mezza e guardate mi dice che arriverò fra 21 minuti quindi alle 10.42 cerchiamo di arrivare puntuali quasi arrivati a fiume lì a destra c'è opatia o abbazia che è un bellissimo posto da visitare se vi capita siete in zona potete fare un giro e qui ci sono anche diverse colonne di ricarica in giro vi tranquilli che non restate a pieni peccato che oggi sia una giornata un po nuvolosa ma vi assicuro che durante l'estate comunque quando ci sono belle giornate è un panorama davvero bellissimo sono proprio a bordo mare allora sto rientrando della croazia e non ho fatto ancora il bilancio perché lo farò al supercharger di cosina approfitterò perché i costi mi sono interessanti per ricaricare ma ancora ragazzi non mi abituo a passare il confine tra croazia e slovenia comunque viceversa senza i controlli devo dire che una volta quando si arrivava qui si aveva proprio paura di arrivarci perché c'erano delle file interminabili invece oggi fortunatamente si può passare anche a così tranquillamente fra pochi minuti circa due siamo arrivati al supercharger di cosina che è a un chilometro e due la batteria è in fase di preriscaldamento quindi in teoria la ricarica dovrebbe essere veloce la batteria è al 14% infatti guardate ragazzi ho percorso sono partito con il 100% di batteria ho percorso fino adesso 281 chilometri con 55 kilowattora e una media di 194 wattora per chilometro devo dire che sì non ho lesionato sull'acceleratore proprio perché ero in ritardo guarda che strada che c'è qui mi stanno rifacendo tutto e praticamente siamo su una strada bianca tornando al discorso che vi facevo poco fa in pratica quando si corre consuma parecchio fatti conti perché ho fatto con l'86 per cento di batteria ho fatto 282 chilometri che non è male non è male considerando il fatto che comunque non ho lesionato sull'acceleratore bene andiamo a approfittare delle tariffe che ci sono qui supercharger in Slovenia magari adesso vediamo meglio in dettaglio poi una volta ricaricato andiamo a trovarci un posticino dove mangiare se è aperto dove vado di solito ragazzi vi faccio vedere dove vado vediamo anche un po' i prezzi se hanno mantenuto la filosofia oppure si è cambiato qualcosa e poi ovviamente vi posso lasciare in descrizione o dire anche il posto dove vado a mangiare ogni tanto sostanzialmente andiamo lì per mangiare il pesce questo supercharger è fuori dal casino Admiral ce n'è una di austriaca 14% di batteria sono le 13 e 24 vediamo quanto ci mettiamo per fare la ricarica sperando di averla parcheggiata bene perché mi sa che l'ho messa no giusta partita 30 minuti per portarla al 100% ma se la portassimo all'80% allora ragazzi ho bloccato la sessione corrente che era 6,61€ perché volevo mettermi sullo stallo di là in quanto è arrivata un'altra macchina e stavamo praticamente condividendo lo stallo e avevo la velocità dimezzata però nello stesso momento in cui ho trovato la ricarica è arrivata un'altra di là bianca e quindi tanto vale che mi fermi qui adesso e aspettiamo siamo al 38% in 13 e 37 c'è chi passa il tempo giocando a frisbee e chi guarda youtube manca ancora penso poco e poi si riparte ricarica terminata sono le 14 e 11 84% di batteria andiamo a stoppare la ricarica e vedere il costo 18,87€ dal 14 all'84% e vive ai prezzi della Slovenia andiamo a mangiare e poi ritorniamo verso casa e vi farò poi alla fine della prova un riassunto per quanto riguarda i costi diciamo di questa prova con gomme estive quindi non più quelle gomme termiche che ho tolto qualche giorno fa ma con le gomme estive vediamo se cambia qualcosa grazie finito di pranzare allora il posto merita una fermata però ragazzi ricordatevi che accettano solo pagamenti in contanti qualche cosa abbastanza tipica oggigiorno no? però devo dire che è pieno pieno abbiamo mangiato bene e vale la pena di fare un giro allora abbiamo fatto un giro per la zona qui del porto di Capodistria perché da Cozzi alla Supercharger qui ci sono circa 20 minuti di autostrada e qui ci sono un po' di negozietti è carino come anche il centro storico di Capodistria è bellino da vedere se siete nei pressi potete fare un giro c'è anche un bellissimo lungomare con tanti localini per bere qualcosa e secondo me un giro ci sta bene siamo appena rientrati andiamo a vedere quanto abbiamo consumato in termini di kilowatt allora abbiamo percorso oggi 489 chilometri e abbiamo consumato 89 kilowattora con un consumo medio di 182 wattora per chilometro beh beh diciamo che oggi ho guidato come se avessi guidato una macchina a benzina o a gasolio senza proprio badare al consumo energetico non mi sono preoccupato di ottimizzare la guida io devo dire che non è male non è male vi lascio alla fine del video il costo sostenuto per fare questi quasi 500 chilometri io vi ringrazio e se volete iscrivetevi al canale arriveranno altri video spero interessanti e ci vediamo al prossimo video ciao e grazie joy perplesso che mi vede salire in macchina e parlare da solo la sua faccia ciao 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 ciao